Era una partita difficile, lo sapevamo, incontravamo una buona squadra, si è visto anche in campo, complimenti a Mr. Mecchionna perché ci ha messo in grande difficoltà con questi cambi tattici durante la partita. Noi devo ringraziare i ragazzi perché stanno lavorando bene, stanno seguendo le mie direttive e questo è un fattore principale per andare avanti. Dall'inizio non siamo entrati con l'atteggiamento che questa squadra ha bisogno per sviluppare un buon gioco, siamo stati molli dall'inizio, non siamo riusciti a trovare il gioco che di solito facciamo, abbiamo avuto qualche difficoltà fisica su qualche giocatore che è dovuto impiegare per forza e tutto questo ha portato sì all'ultimo di perdere una partita che secondo me al di là delle occasioni dall'una e dall'altra parte era un pareggio, era il risultato più giusto e ovvio che poi loro trovando quel gol dove noi stessi abbiamo rimesso la palla dentro è stato più facile poi andare a fare anche il secondo gol su una ripartenza.